Ciao! Noi siamo il cibo Mizzou! Se provate a camminare oggi andremo a visitare... Lo so! E' un po' di più che sto da un rinforo! Lo so! Sono molte nuove bellezze! E' un po' di più che mi affidano! E' un po' di più che mi affidano! E' un po' che resta da lo so! E' un po' di più che mi affidano! E' un po' di più che ci sono speciali nella loro casa più che non è!